Bene, continuiamo la nostra discussione sull'applicazione dei principi della dinamica al caso di un oggetto che si muove allungo un piano inclinato. Vi assumo velocissimamente quanto abbiamo visto la volta scorsa. Devo disegnare il piano inclinato. Ecco, questa è l'altezza, la parte orizzontale e la superficie inclinata. L'inclinazione è alfa, la lunghezza del piano è L e l'altezza H. L'oggetto parte dal punto A verso il punto B. Abbiamo visto che le forze applicate all'oggetto in moto, mettiamo che sia questo per esempio, di massa M. Sono 3. In questo caso c'è il peso, c'è la reazione vincolare, rosso. E potrebbe esserci o non esserci l'attrito. Per adesso immaginiamo il caso in cui non ci sia. Dalla somma delle due forze, abbiamo visto che se prendiamo come asse di riferimento una retta parallela al piano inclinato, che quindi parte dall'estremo superiore verso l'estremo inferiore, e quindi questa è la nostra direzione X, allora l'accelerazione ha, anzi, facciamo ancora una cosa che è ancora più con calma, la parte del peso perpendicolare al piano viene bilanciata dalla relazione vincolare, mentre la parte del peso parallela al piano è quella che è la forza motrice, cioè la forza non bilanciata che mette in moto l'oggetto. E quindi per il secondo principio della dinamica vale la massa dell'oggetto per l'accelerazione. Quindi, di conseguenza, la forza risultante, massa per l'accelerazione, vale il peso parallelo, quindi massa per G per il seno dell'angolo di inclinazione. La massa può essere semplificata, perché appare sia a destra che a sinistra, quindi il nostro blocco scivola lungo il piano inclinato con un'accelerazione lungo l'asse, lungo la direzione del piano, che è G per il seno di alfa, quindi che è un'accelerazione più piccola di quella che avrebbe se cadesse verticalmente. Ed è un'accelerazione costante, cioè non cambia nel tempo. Quindi il moto che ne consegue è un moto uniformemente accelerato. Ok? Quindi valgono le leggi del moto uniformemente accelerato, cioè la posizione al tempo T vale la posizione iniziale più la velocità iniziale per il tempo più la metà dell'accelerazione per il tempo trascorso al quadrato. Tenendo presente che T0, nel caso in cui T0 sia 0, altrimenti useremo un delta T. La velocità al tempo T vale la velocità iniziale più l'accelerazione per il tempo trascorso e ancora la velocità al quadrato, velocità in funzione della posizione, vale la velocità iniziale al quadrato più due volte l'accelerazione per lo spostamento. Queste tre leggi valgono per il solo fatto che il moto avviene con un'accelerazione costante, uniforme che non dipende dal tempo. Quindi per esempio abbiamo calcolato l'altra volta che il tempo di caduta, quindi tempo da A a B, o tempo di caduta, cioè il tempo impiegato dal corpo se parte da A per arrivare in B, partendo da fermo, quindi se la velocità iniziale è uguale a 0, o se preferite la velocità in A è 0, allora con la prima di queste leggi possiamo calcolare il tempo di caduta, perché? Perché il punto che ci interessa è B e la sua coordinata è L, quindi in B la X vale L, L è lunghezza del piano inclinato, e quindi avremo che L vale la velocità iniziale che è 0, più la velocità iniziale che è 0, ancora più 0, più un mese dell'accelerazione per il tempo di caduta al quadrato, chiamiamolo tempo da A a B. A vale, come abbiamo visto, G per il seno di alfa, e quindi L vale un mezzo G sen alfa per il tempo di caduta al quadrato, per cui il tempo impiegato dal corpo per cadere in un piano inclinato vale la radice quadrata di 2 volte L diviso G sen alfa. O se vogliamo usare il fatto, la quota all'altezza del piano, basta ricordarsi che H vale L per il seno di alfa massimo, qui ci interessa poco. Poi abbiamo calcolato la volta scorsa con quale velocità raggiungi il punto B, e questa è data da, possiamo usarla per esempio utilizzando la seconda relazione, visto che abbiamo appena calcolato il tempo, oppure la terza. Nella terza, forse ancora meglio, nella terza relazione, abbiamo che la velocità in B, al quadrato, vale quella iniziale, cioè quella in A al quadrato, più 2 volte l'accelerazione per lo spazio percorso. Ora, questa è la velocità iniziale, cioè il punto A che è nulla, A vale G sen alfa, e delta X vale L. Quindi la velocità finale, o velocità nel punto B, al quadrato, vale 2 volte G seno di alfa per L. e questo abbiamo anche visto che è uguale ad H, l'altezza del piano inclinato, l'altezza del punto di partenza. Quindi la velocità con cui arriva in B, vale la radice quadrata di 2H, scusate, per G, ecco, G ho paio in mezzo, radice 2GH. quindi se per esempio abbiamo un piano inclinato che è lungo un metro, è inclinato di 30 gradi, per ora il tempo di caduta, cioè il tempo per andare da A a B partendo da fermo, che vale la radice di 2L fratto G, G seno alfa, sostituendo i dati, veniva, allora a volte scorsa, l'ho calcolato come 0,64 secondi, se non ricordo male, se in 30 gradi, ok, mentre la velocità in B, ok, quindi la radice di 2G, diciamo, L seno alfa, veniva circa 3,13 metri al secondo. avevamo anche visto che il tempo di risalita è identico, se immaginiamo che l'oggetto rimbalzi in B torno indietro, il tempo di risalita è uguale. Vediamo adesso cosa succede se, cosa cambia se introduciamo l'attrito, in presenza di attrito, qui abbiamo lavorato senza attrito, senza attrito. Se, potemi copiare il disegno, potremmo rifarlo, ok, se ci fosse l'attrito, cioè, o meglio, se non potessimo trascurarlo, che cosa dovremmo dire? Beh, in presenza di attrito avremo una terza forza, disegniamola in blu, in questo caso opposta al moto, quindi diretta verso A, e la forza di attrito, attrito radente, vale il coefficiente di attrito, per R, cioè in questo caso, mi volte P parallelo, quindi P, anche P, P perpendicolare, ovvero sia, fatemi riscrivere qua sotto, mi per P, per il coseno dell'angolo alfa, quindi, mi, mg, coseno alfa, di diretta nel basso opposto al moto, quindi se, nel moto, da A verso B, ok, la forza di attrito ha questa orientazione, è da B verso A, perché è sempre orientata in modo opposto al moto, in modo da opporsi al movimento, quindi è sempre orientata a ridurre la velocità, quindi la nostra forza risultante, in questo caso, quindi la forza risultante, cioè massa per accelerazione vale il peso parallelo al piano inclinato, che è la forza motrice, che tende a far spostare il corpo lungo il piano inclinato da A a B, meno la forza di attrito, la forza di attrito che tende a opporsi al moto, per cui avremo B parallelo che è mg sen alfa, e l'attrito che è meno mi mg coseno alfa, quindi anche qui posso raccogliere la massa e semplificarla, quindi con attrito da A verso B, l'accelerazione, quindi quando il nostro blocco scende lungo il piano inclinato, vale G per il seno di alfa, meno mi volte il coseno di alfa. è comunque un'accelerazione costante, perché lungo il piano inclinato queste grandezze non cambiano, quindi anche in questo caso si tratta di un moto uniformemente accelerato, e quindi anche in questo caso valgono tutte le leggi che abbiamo visto prima, quindi per esempio se vogliamo calcolare il tempo di caduta, da A a B, in questo caso abbiamo sempre una legge analogo al precedente, quindi abbiamo parte sempre da fermo, V0 vale 0, quindi parte da fermo, in A, e avremo, possiamo usare la legge di, del modo, di legge oraria, quindi X, che vale la posizione, è la posizione iniziale, più la velocità iniziale per il tempo, più un mezzo dell'accelerazione per T alla seconda, anche in questo caso, questa grandezza è 0, questa grandezza è 0, perché parte da fermo, ma stavolta A è diversa, quindi abbiamo che X che vale L, vale un mezzo di A, T alla seconda, da cui chiediamo sempre che T, c'è il tempo per andare da A a B, in presenza di attrito, vale la radice quadrata di, due volte L fratto A, ma stavolta A è diverso, quindi T a B vale la radice quadrata di, due volte L fratto G per il seno di alfa, meno mi volte il coseno di alfa, e quindi nel caso del nostro esercizio, immaginiamo che L sia lungo un metro, e che il coefficiente di attrito sia 0,2, quindi un attrito sufficientemente piccolo, se alfa è sempre 30 gradi, allora il tempo di caduta, lo calcoliamo come la radice di, due volte un metro, fratto 9,81 metri al secondo quadrato, per il seno di 30 gradi, meno 0,2 per il coseno di 30 gradi, e quindi avremmo che, un attimo di prendere la calcolatrice, abbiamo il seno quadrata di 2 fratto parentesi, anzi, 2 radice di, 2 diviso 9,81, diviso ancora parentesi, il seno di 30, meno 0,2 per il coseno di 30 gradi, otteniamo un tempo di circa 0,789, diciamo 7,79 secondi, ovviamente un tempo più lungo di prima, prima erano 0,64 secondi, ok, osservate che, la relazione che abbiamo appena ottenuto, coincide con quella precedente, nel caso in cui mi sia 0, se qui mi fosse 0, riotterrei quella di prima, 2 l diviso g sen alfa, ok, calcoliamo la velocità, al punto di arrivo, dopo il piano inclinato, quindi la velocità in B, in B, cioè la base del piano, nel modo che abbiamo operato prima, cioè la velocità, ma la seconda vale velocità iniziale quadrato, più due volte l'accelerazione per lo spostamento, ok, qui, B0 è 0, qui vale l, e a l'abbiamo appena visto quanto vale, quindi abbiamo che la velocità in B, la seconda, è, due volte g, per il seno di alfa, meno mi volte il coseno di alfa, per l, e qui possiamo prendere la dice quadrata, quindi la velocità alla base del piano inclinato, è la radice quadrata di, due volte g, sen alfa, meno mi coseno di alfa, per l, attenzione, qui, viene a mancare, la, la, l'indipendenza da h, perché se io volessi introdurre h in questa, beh, potrei raccogliere un sen alfa qua dentro, quindi potrei scrivere, 2g, sen alfa, qui avrei 1, meno mi, per la tangente, di, anzi, diviso la tangente di alfa, quindi viene coseno fratto seno, per l, poi sen alfa per l, non verde, sen alfa per l, lo sostituisco con h, e quindi la velocità, con cui il corpo arriva alla fine del piano inclinato, posso scriverlo come la radice quadrata, è di due volte g, h, ma stavolta ho 1, meno mi fratto la tangente di alfa, quindi qui non è più indipendente da alfa, quindi a seconda dell'inclinazione, il piano inclinato, la velocità di arrivo in B è diversa, mentre nel caso in cui mi sia 0, non ho più dipendenza da h, parità di h, la velocità non dipende più da alfa, solo se l'attrito non è rilevante, calcoliamo la velocità nel nostro caso, quindi possiamo usare sia questa che la precedente, quindi abbiamo, eccola qua, la velocità nel caso nostro in B vale, 2 per 9,81 metri al secondo quadrato, per un metro che è L, per il seno di 30 gradi, meno 0,2 per il coseno, sempre di 30 gradi, e otteniamo, calcolatrice la mano, ecco la radice quadrata, questo è un pera, attenzione, la radice quadrata è di 2 per 9,81, per un metro, ok, per il seno di 30, meno 0,2 per il coseno, sempre di 30, e viene, la velocità in B è 2, e 2,53 circa metri al secondo, mentre prima era 3,13, quindi ovviamente, l'oggetto scivola lungo piano inclinato, arriva alla base, e ci mette un tempo più lungo, e arriva con la velocità più ridotta, arriva più lento, d'accordo? ok, ci sono domande? attenzione a, questo quindi, per quanto riguarda il moto da A a B, ok, mentre l'oggetto scivola lungo piano inclinato, da A a B, che succede se invece, il nostro blocco si trova in B, gli diamo un calcio verso A, che lo facciamo salire lungo il piano inclinato, beh, anche qui, vediamo se riesco a copiare il disegno di partenza, eccolo qui, ok, sì, un punto, ok, da b verso a con attrito diverso da zero se il corpo si muove da b verso a ok quindi qui teniamo sempre lo stesso orientazione in questo caso se parliamo delle forze se sale da da b verso a allora la forza d'attrito che opposta al moto è una forza che va verso il basso perché se ho il moto quindi o il corpo in b e gli do una velocità iniziale questa nostra v zero verso l'alto ok allora se ho il moto da b verso a allora la forza d'attrito è orientata da verso b e quindi è parallela ed equiversa di parallelo il nostro caso quindi la forza risultante diventa m per a ok secondo principio quindi è il parallelo più la forza d'attrito perché se il corpo si sposta verso l'alto la la forza è diretta verso il basso la velocità in questo caso è diretta da b ad a quindi è negativa nel nostro sistema e quindi la forza di attrito è orientata nel modo opposto a quello in cui l'oggetto si muove per cui adesso avremo che il secondo principio della dinamica ci dice che m per a vale quindi m g sen alfa più mi g cosen alfa con la m scusate da quel golem m la semplifico quindi l'accelerazione in questo caso nel moto da b verso a vale g volte sen alfa più mi cosen alfa quindi qui è rilevante fate attenzione al segno qui un più qui c'è il moto da b verso a quindi se fossimo interessati per esempio a capire qual è la velocità necessaria per esempio con quale velocità deve partire da b affinché il nostro corpo arriva a perché mentre sale se in b è sufficientemente lento non riesce ad arrivare in a la forza l'accelerazione cioè le due forze il peso la forza del titolo frendano loro all'entrano la fermano prima qual è la forza velocità con cui deve partire da b in modo tale che le forze rallentandolo gli permettono comunque di arrivare in a in questo caso è sufficiente usare la terza delle leggi della cinematica vi ricordate che dove sono la lista che avevamo fatto prima che questa quella qui usiamo questa legge e troviamo la risposta il nostro caso avremmo che la velocità di al quadrato vale buio iniziale quadrato più due volte l'accelerazione per lo spostamento ok d'accordo quindi in questo caso questa è dubbi in questo caso questa è qua e questa sarà 0 perché se arriva in a arriverà in a fermo ok e mi interessa sapere qual è la velocità minima che deve avere in via affinché riesca ad arrivare in a da qui basta ripostare quindi questa equazione con le costanti corrette quindi o 0 uguale a vb alla seconda più due volte a delta x attenzione questa volta il delta x delta x cosa significa significa x finale meno posizione iniziale ma nel nostro sistema questa è la posizione di a mentre questa è la posizione di b questa è 0 e questa l quindi il nostro spostamento delta x vale meno l perché il moto lo spostamento è nel verso opposto a quello della x crescente di conseguenza avremo che vi abbiamo ripeto 0 uguale a vb alla seconda più due volte a per il delta x che è meno l quindi vb la velocità minima che abbia b affinché arrivi in a vale gradici quadrata di cambiando di segno 2 a l dove a vale g sen alfa più mi volte cosen alfa b due volte g per sen alfa più mi cosen alfa per l quindi nel caso di prima se l un metro e mi 0.2 e alfa e 30 gradi un esempio allora la velocità v che deve avere in b minima affinché riesca a risalire tutto il piano inclinato vale radice di 2 per 9,81 metri a seconda metri al secondo quadrato per il seno di 30 più 0,2 per il coseno di 30 per ancora un metro vediamo quant'è radice quadrata di 2 per 9.81 per se di 30 gradi più punto 2 per il coseno di 30 gradi otteniamo 3,60 gradi otteniamo 3,63 metri al secondo se ho calcolato bene fatemi lo rifare radice di 2 per 9,81 per il seno di 30 più 0,2 per il coseno sempre di 30 ok quant'è in questo caso l'accelerazione totale calcoliamo anche questa allora a che è g per il seno di 30 di alfa più mi volte il coseno di alfa in caso del nostro esercizio vale il seno di 30 più punto 2 per il coseno di 30 6,60 metri al secondo quadrato circa ok come osservate la velocità in questo caso in cui deve partire da b è più grande di quella che abbiamo ottenuto nell'esercizio scorso cioè se in presenza di attrito faccio il disegno se ho attrito e lascio cadere il mio blocco da a a b ok e in b rimbalza e quindi poi risale non raggiunge più a perché l'accelerazione con cui scende non è la stessa con cui sale quando sale l'accelerazione ha un valore più grande ed è opposta al moto quindi lo frena più efficacemente perché perché mentre la parte del peso è sempre diretta da a a b la parte dell'attrito mentre scende è opposta alla velocità mentre sale anche quindi mentre scende è diretta da b verso a e mentre sale da a verso b quindi mentre scende viene accelerato da un'accelerazione più piccola il valore assoluto di quella che avrebbe se scende senza attrito e quando sale l'accelerazione lo frena in modo più efficace di quanto non l'accelerato il peso mentre scendeva e quindi se mettiamo che in b abbiamo una molla per cui il corpo rimbalza e torna indietro con la stessa velocità che arrivava in cui è arrivato in b non riesce più a raggiungere a perché non ha la velocità sufficiente per farlo abbiamo visto prima che quando scende eccolo qui ecco arriva in b con una velocità che è 2,53 metri al secondo se ripartisse da b con questa velocità non potrebbe arrivare al punto più in alto perché per farlo gli serve una velocità di 6,63 metri al secondo quindi si fermerebbe prima questo è uno scherzo che ci gioca l'attrito non so se è tutto chiaro in assenza di attrito da a il corpo va in b se riesce a rimbalzare ritorna in a direttamente nello stesso tempo di caduta se invece c'è attrito arriva in b rimbalza a qualsiasi velocità torna su ma si ferma prima è un po' come quando il moto verticale nel caso di moto inclinato se volete è un caso generale se l'inclinazione del piano fosse 90 gradi avremmo un moto verticale se io prendo un pallone e lo facciamo cadere da un certo in una certa quota il pallone arriva a terra rimbalza ma non risale più alla stessa quota dalla quale l'abbiamo lanciato perché l'attrito sia durante l'urto col pavimento che durante il moto di salita e discesa lì anche se l'attrito con l'aria è molto più piccolo quello che è importante in quel caso è la collisione col terreno ma insomma per l'effetto dell'attrito non risale più al punto di partenza ok detto questo proviamo a vedere qualche esercizio di quelli che propone il testo per esempio a fare l'esercizio molto semplice come questo qui il 5 a pagina 304 del volume 1 dice si vuole far scendere una scatola lungo un asse di legno inclinato quindi qui abbiamo l'orizzonte qui c'è il nostro asse di legno la lunghezza della nostra asse di 3,43 3,43 metri questa è la lunghezza l in modo tale che l'accelerazione con cui scivola lungo l'asse di legno è non superiore a 2,2 metri al secondo quadrato questa è l'accelerazione massima ok qual è h è l'altezza qual è il dislivello h massimo che ci risolve il problema in modo che supponendo l'attrito è trascurabile cioè 6.000 uguale a 0 allora qui ricordiamo che l'allegame tra il dislivello tre punti di partenza chiamiamolo sempre a il punto di arrivo b è legato ad alfa quindi h vale l volte sen alfa d'accordo? e abbiamo visto che l'accelerazione a uguale lungo il piano inclinato senza attrito vale g volte sen alfa quindi al posto di sen alfa posso scrivere benissimo h fratto l quindi se h è l sen alfa sen alfa è l su h per cui a vale g volte h su l ci chiedono quanto è h quindi è sufficiente invertire questa relazione h vale a per l fratto g quindi dislivello massimo che produce l'accelerazione che ci serve sarà a che è 2,2 metri al secondo quadrato g 9,81 metri al secondo quadrato per l che era non lo ricordo più 3,43 metri qui abbiamo 2,2 diviso 9,81 per 3,43 e viene 0,77 metri che corrispondono a un angolo alfa che quindi è il sen inverso di h su l quindi un angolo di eccolo qui 37 circa 50 gradi quindi se la io ho questa tavola lunga 3,43 metri e la inclino in modo tale che il dislivello sia al massimo 77 centimetri oppure l'angolo non superi 50 gradi il mio blocco scivolerà a lungo L con un'accelerazione che non supererà i 2,2 metri al secondo quadrato ok ci sono domande? allora ci possiamo per oggi ci possiamo fermare qui ok ok ok